Questa è la prima parte della video lezione dedicata alla Object Oriented Programming, programmazione orientata agli oggetti, OOP. Il sogno di ogni programmatore che si rispetti, che non vuole fare la fame, è quello di trovare metodologie e tecniche di sviluppo del software che gli consentono di scrivere codice velocemente e senza errori, è facilmente modificabile e facilmente riutilizzabile. La OOP non è una bacchetta magica che risolve tutti i problemi, ma certamente è un passo decisivo in questa direzione. Oggi la maggior parte di progetti complessi per lo sviluppo di software, videogame compresi, basano il loro processo di sviluppo proprio su tecniche OOP. Non sorprende quindi che la maggior parte dei più famosi linguaggi di programmazione oggi più utilizzati siano OOL, Object Oriented Languages. E tra queste vale la pena sicuramente ricordare l'Object Pascal, il linguaggio dell'ambiente di sviluppo Delphi, il C++, o C++ se preferite, il C Sharp, il nuovo linguaggio della Microsoft derivato dal C++ e da Java, e Java stesso. Affinché un linguaggio di programmazione possa definirsi orientato agli oggetti, deve supportare queste tre caratteristiche. L'ereditarietà, il polimorfismo e l'incapsulamento. Però la OOP non è una rivoluzione. Non dovrete buttare a mare tutto quello che avete imparato con il Pascal o altri linguaggi non OOP. La OOP è una evoluzione. Quindi costruisce sulle buone pratiche di programmazione e su quanto di buono possiamo mantenere dei linguaggi no OOP, aggiungendo alcune caratteristiche decisamente interessanti come le tre che vedete qui evidenziate. Quindi concetti come definizione di variabili, costanti, tipi, istruzioni come la selezione, i cicli, eccetera, e strutture dati come vettori e record, sono ancora tutti presenti anche nella programmazione ad oggetti. Ma vediamo quali sono i punti di forza delle tecniche non OOP che mantengono tutto il loro vigore anche nella programmazione OOP. Questa breve rassegna è indispensabile perché sarà su quelle pietre angolari che costruiremo tutto l'edificio OOP. Quindi divide e timpera, dicevano gli antichi romani, separa e domina. Ciò che il programmatore vuole dominare è la complessità. La regola d'oro è se hai un problema complesso, troppo complesso per affrontarlo come un tutt'uno, suddividolo, separalo, in problemi più semplici. risolvi i singoli problemi più semplici e rimetti tutto insieme risolvendo il problema di partenza. È il concetto che sta alla base della programmazione modulare. Per modularità si intende infatti la possibilità di spezzare e suddividere un'applicazione software complessa in componenti il più possibile indipendenti tra di loro ma che cooperano tra di loro. L'indipendenza permetterà poi di riutilizzare questi mattoncini di programmazione in diversi progetti. E spero che i più tra voi abbiano già capito che sto riferendomi alla possibilità di strutturare un programma in sottoprogrammi, procedure e funzioni. Quando un programma è strutturato in tante parti indipendenti ma cooperanti si riduce come abbiamo detto la complessità è più facile anche riutilizzare il codice al limite rivendendolo anche da altri programmatori perché se scrivo una funzione per ottenere il risultato di un calcolo complesso può essere che altri programmatori siano interessati ad acquistare la mia funzione perché per loro svilupparla da zero costerebbe probabilmente molto di più. Ma il programmatore che scrive un sottoprogramma spera poi di poterlo anche riutilizzare in tanti altri suoi programmi è comunque un grosso guadagno anche senza vendita a terzi. Scrivere un unico grosso programma di decine o centinaia di migliaia di righe porta a un numero di errori sicuramente maggiore che non concentrarsi su tanti piccoli sottoprogrammi ciascuno dei quali è formato da molte meno righe e quindi è più facile seguire il codice la sua logica trovare gli errori, scoprirli. Il codice diventa più leggibile perché è più facile scorrere cento righe di codice di una funzione o di una procedura piuttosto che mille righe di codice di un intero programma. Per lo stesso motivo è più facile apportare modifiche tenendo sotto controllo quello che capita in un programma e detto in altre parole il codice è più manutenibile. La possibilità di spezzettare per così dire il progetto in tante parti più piccole facilita anche di molto il lavoro di squadre, team di programmatori. Infatti si potrebbe assegnare a ciascun componente del gruppo una o più funzioni da sviluppare in autonomia. Alla fine si tratterebbe di accorpare tutte le procedure sviluppate dai componenti del gruppo in un unico progetto. Per interfaccia intendiamo il protocollo d'uso di un modulo software. Ad esempio per interfaccia della funzione SQRT intendiamo il fatto di sapere che appunto deve essere invocato questo comando con la parola SQRT e che tra parentesi dobbiamo indicare un numero reale e sapere che la funzione come risultato calcola la radice quadrata di quel numero o di quella variabile che viene indicata. L'interfaccia un po' come il sistema di guida di un'automobile protegge l'utilizzatore il programmatore che vuole utilizzare la SQRT ad esempio dalla complessità della SQRT stessa cioè non interessa sapere come internamente poi la funzione riesce effettivamente a calcolare tramite un algoritmo che può essere anche molto complesso il suo risultato. Interessa solo sapere come chiamare questa funzione per ottenere il suo calcolo. Il paragone con il sistema di guida di un'automobile regge molto bene. Pensate a quante persone dovrebbero accontentarsi di andare in giro sui pattini se per guidare la macchina fosse richiesto conoscere la perfezione come funziona ciò che sta sotto il cofano ciò che sta dietro i pedali del sistema di guida. L'uso di un'interfaccia semplice e chiara non solo facilita l'utilizzo del componente ma consente modifiche interne al componente che non si ripercuotono sul suo modo di utilizzarlo. Se sostituiste il motore della vostra 600 con il motore di una Ferrari comunque il modo di guidare la vostra 600 risultati fatali a parte non cambierebbe. Vi accorgereste di un enorme incremento nelle prestazioni ma non dovreste imparare nulla di nuovo. Allo stesso modo se un componente viene modificato internamente ma la sua interfaccia cioè il suo protocollo d'uso rimane invariata non dovrete apportare modifiche al codice che prima utilizzavano la vecchia versione del vostro componente ad esempio se nella nuovissima versione del Pascal la funzione SQRT è stata migliorata in modo da restituire il suo risultato in un centesimo del tempo ma comunque il suo modo di utilizzo non cambia cioè si chiama sempre SQRT e sempre dovete fornire tra parentesi una costante numerica reale o una variabile reale di cui verrà calcolata la radice quadrata i vostri vecchi programmi che utilizzavano la vecchia versione della radice quadrata non dovranno essere modificati al massimo dovrete ricompilare e rilincare ma senza modificare il codice i vecchi programmi ma per quello è sufficiente un click per quanto abbiamo detto finora potremmo dire che la modularità assicura la protezione dell'utente cioè di un programmatore dal componente che vuole usare cioè il programmatore è protetto dalla complessità con cui è stato costruito internamente cioè dal capire il codice che sta dietro l'utilizzo di un certo componente ma in realtà contemporaneamente un software modulare protegge anche il componente dall'utente cioè dal programmatore ma al destro che essendo per così dire separato dall'implementazione dal codice con cui funziona quel componente non può pasticciare con i meccanismi interni del componente stesso lo puoi usare ma non puoi modificarlo a piacere perché probabilmente combineresti dei grossi guai usalo e basta beh anche la programmazione non OOP cioè quella che potremmo definire tradizionale non se la cava malaccio dal punto di vista della modularità e offre degli strumenti per nulla disprezzabili che utilizzeremo con tutta loro potenza ed efficacia anche nella programmazione OOP vediamo quali abbiamo già parlato dei sottoprogrammi procedure o funzione questo schema descrive una possibile situazione in cui un programma prova viene suddiviso in problemi più semplici fino ad individuare dei compiti ciascuno dei quali può essere svolto da una funzione o da una procedura il commento in blu non fa che riprendere i concetti che avete sentito prima dalla mia viva voce ma quando un progetto è veramente troppo complesso potrebbe anche non essere sufficiente o d'opportuno svilupparlo usando un solo file sorgente cioè un solo programma punto pass per intenderci prima di introdurre il livello di granularità corrispondente alle procedure e alle funzioni potremmo essere costretti a individuare un livello intermedio cioè invece di un unico grosso file sorgente decidere di produrre alcuni file sorgenti e poi ciascuno di questi file sorgenti potrà essere a sua volta strutturato in procedure e funzioni il Pascal e l'Object Pascal il linguaggio dell'ambiente Delphi ma anche altri linguaggi chiamano questi sorgenti unità unit in inglese in una unit il programmatore potrebbe preoccuparsi di gestire l'interazione con l'utente ad esempio in un'altra unit occuparsi dei meccanismi necessari a stampare su carta le informazioni in un altro alla gestione del video o del suono e così via ma tutto questo bel marchi ingegno non funzionerebbe bene se ciascuna unità non potesse in qualche modo nascondere ciò che non vuol far vedere all'esterno cioè per esempio riferendoci a questo schema se il sottoprogramma C non riesce in qualche modo a impedire l'uso delle sue variabili che usa per i suoi cicli e per i suoi calcoli intermedi eccetera alle altre procedure e funzioni c'è il rischio che l'esecuzione di X vada in qualche modo a sporcare interferire cambiare il valore delle variabili di C e viceversa oppure che una funzione inserita nella unit numero 1 vada in qualche modo a usare delle variabili che hanno lo stesso nome nella unit numero 2 e così via dobbiamo stabilire quindi delle regole di visibilità dove una variabile può essere utilizzata in altre unit la possibilità di tenere nascoste all'interno di un modulo delle variabili delle costanti dei tipi o anche delle procedure che sapete possono essere definite dentro altre procedure o funzioni che di nuovo sapete possono essere definite dentro altre funzioni è chiamata torno indietro di una slide information hiding sapete che il verbo to hide significa nascondere appunto in inglese ma in che modo una funzione una procedura può nascondere dentro di sé delle informazioni e in che modo una unit può nascondere le sue informazioni o parte delle sue informazioni ad un'altra unit beh una funzione o procedura pascal è questo il mio linguaggio di riferimento può dichiarare al suo interno lo sapete perché la conoscenza di un linguaggio tradizionale è comunque richiesta per capire quello di cui sto parlando dicevo una funzione o una procedura può dichiarare al suo interno in una sua sezione var variabili delle variabili o delle costanti o altri oggetti che sono chiamati locali questi hanno un significato e sono utilizzabili solo dalla procedura stessa come dire nascono nel momento in cui la procedura viene invocata e muoiono nel momento in cui la procedura termina e non c'è modo per le altre procedure o funzioni o per il programma principale stesso di utilizzare queste variabili locali un sottoprogramma può quindi dichiarare una sua variabile i per un ciclo for utilizzarla con la sicurezza che nessun'altra procedura o funzione o il programma principale possono in qualche modo andare a interferire a cambiare il valore di questa i e viceversa sa di poter usare quella i senza causare problemi alle altre procedure e funzioni o il programma principale viceversa una variabile definita nel programma principale cioè in quella sezione chiamata delle variabili o comunque degli oggetti globali può essere utilizzata in una qualsiasi delle procedure e funzioni questo meccanismo sia utile per far comunicare tra di loro in qualche modo le procedure utilizzando una variabile comune ma anche nello stesso tempo pericoloso e quindi il mio consiglio è sempre stato quello di ridurre al minimo l'utilizzo di variabili globali non può essere eliminato ma può essere controllato e ridotto all'osso anche le unit del Pascal o dell'Object Pascal hanno la possibilità di nascondere una parte degli oggetti che sono dichiarati al loro interno alle altre unit vediamo di ricordare come il progetto che prendo ad esempio è formato da due file sorgenti questa unità chiamata calcoli punto pass e da questo programma chiamato prova punto pass pass il programma prova punto pass utilizza oggetti dichiarati in calcoli punto pass lo può fare perché qua nella sua sezione uses indica il nome calcoli di questa unit quindi in sintesi prova punto pass usa calcoli punto pass ma non potrà usare proprio tutto ma soltanto quelle parti che il programmatore avrà deciso di rendere disponibili in calcoli punto pass la unit inizia con la classica riga di intestazione in cui si indica il nome della unit stessa e continua con due sezioni principali l'interface e l'implementation e questo mantiene la sua validità anche con l'object pascal e quindi con delfi perciò tutto quello che dirò riguardo l'interface e l'implementation varranno sia per il turo pascal ma anche per l'object pascal di delfi l'interface contiene tutti gli oggetti che il programmatore vuole rendere visibili e utilizzabili da altre unit o da altri programmi nella parte implementation invece il programmatore può mettere oggetti che poi non saranno visibili negli altri programmi o in altre unit le regole dettagliate le andremo ad esaminare quando parleremo di programmazione con l'object pascal comunque giusto per avere un'idea nella parte interface il programmatore ha dichiarato che esiste e può essere utilizzata una function chiamata max questa è poi definita in dettaglio nella parte implementation però siccome è stata dichiarata anche nella parte interface significa che l'utilizzo è concesso anche in altri programmi o unit quindi nel sorgente separato prova è possibile utilizzare la function max lo sto facendo in questa write line anche la costante pi greco essendo definita nella zona interface è visibile da prova e la posso ad esempio stampare con questa write line ma la function potenza che si trova solo nell'implementation cioè non ha la sua intestazione ripetuta e solo la sua intestazione nella parte interface non può essere utilizzata all'esterno della unit calcoli pass magari è richiamata da un'altra funzione tipo la max o altre ma sempre presenti nella parte implementation di questa unit all'esterno potenza è invisibile qua non potrei scrivere write line potenza 2,8 per calcolare 2,8 non è visibile nell'interface in una unit quindi l'information hiding è realizzata tramite il meccanismo dell'implementation e dell'interface e di linguaggi tradizionali non OOP si fermano qui nonostante la modularità e l'information hiding è ancora troppo difficile descrivere oggetti molto complessi del mondo esterno reali o lastratti ed il riutilizzo del codice non è ancora molto efficiente il perché lo vedremo ora mentre descriveremo anche quelle caratteristiche della OOP che superano proprio questi due limiti e siamo ritornati all'inizio la OOP è incardinata su tre concetti fondamentali l'incapsulamento l'ereditarietà ed il polimorfismo incapsulamento significa poter racchiudere all'interno di una unità sintattica cui diamo il nome di classe tutte le caratteristiche di un oggetto del mondo reale insieme al suo comportamento il comportamento degli oggetti di una classe è definito dalle procedure e funzioni che vengono incluse in quella classe potete pensare ad una classe come ad un record a cui oltre alle variabili sono state aggiunte delle procedure e delle funzioni una classe quindi incapsula racchiude proprietà attributi definiti da queste variabili e il comportamento i dati e le procedure e le funzioni che devono lavorare con questi dati tutti all'interno di una unità sintattica che dicevo prima prende il nome di classe ma quali sono i vantaggi dell'incapsulamento prendiamo come esempio la rappresentazione di un oggetto a voi noto del mondo reale una bicicletta con la programmazione non OOP quindi senza classi il programmatore inizia nella sezione var a elencare le variabili che rappresentano le caratteristiche della bicicletta può evidenziare giusto una ruota un pedale eccetera per il momento non interessa ragionare sui tipi di queste variabili poi continua con lo scrivere alcune procedure e funzioni che descrivono il comportamento della bicicletta e quando vuole applicare un comando ad una bicicletta invoca una procedura e gli passa eventualmente come parametro la variabile che rappresenta la bicicletta qui ho immaginato una procedura parti che ricevendo come parametro come valore o comunque variabile di lavoro una variabile tipo bicicletta svolge quelle attività che sono necessarie per simulare la partenza della bicicletta ad esempio disegnarla sullo schermo e cominciare a farla muovere ma i dati della bicicletta e i suoi comandi non sono insieme in una stessa unità sintattica quello che accade lo sapete bene dopo un po' è che modificando ritoccando migliorando sostituendo il codice le variabili si confondono tra di loro altri oggetti che nulla hanno a che fare con la bicicletta sono introdotti nel programma descritti nel programma e le variabili di questi nuovi oggetti vanno in qualche modo a sovrapporsi e a confondersi con quelle della bicicletta e la stessa cosa capita anche con le procedure e le funzioni di modo che col tempo diventa veramente molto difficile distinguere a colpo d'occhio e tenere su controllo tutto ciò che pertiene una bicicletta piuttosto che un'automobile e tutto questo ha come conseguenza che è molto più facile commettere errori ed è molto più difficile riutilizzare il codice descrivere una bicicletta con un linguaggio OOP consente di sfruttare come contenitore una classe la classe contiene il suo interno in capsula sia le variabili che descrivono lo stato di una bicicletta che le procedure che devono lavorare con queste variabili inoltre non è possibile utilizzare una procedura che non è della bicicletta con una bicicletta o viceversa chiedere a una procedura che è tipica per la bicicletta di lavorare con dei dati che non sono quelli di una bicicletta questo perché il compilatore può tenere tutto sotto controllo i dati della bicicletta sono questi e le procedure o funzioni che li possono usare sono questi qui nulla vieta di passare per errore come oggetto una variabile che è di una bicicletta ma la procedura è quella di un'automobile ad esempio o viceversa con la programmazione tradizionale il buon funzionamento del programma è legato all'ordine la correttezza alla memoria alla precisione del programmatore di qui molto meno perché è il compilatore che in automatic può fare una buona parte dei controlli per mantenere coerente l'utilizzo del codice la programmazione OOP è molto più ordinata e molto più sicura siamo pronti per dare una definizione un pochino più rigorosa di una classe potremmo definire una classe come un modello per creare oggetti descritti dalle stesse caratteristiche stato interno e che mostrano comportamenti identici a partire dalle stesse situazioni stato interno iniziali la classe delle biciclette ad esempio permette di descrivere oggetti biciclette che sono descritte dallo stesso stato interno pedale e ruota ogni bicicletta ha un pedale o più pedali e uno o più ruote e tutti questi oggetti sono caratterizzati dallo stesso gruppo di attributi caratteristiche le variabili che mettiamo nello stato interno e se lo stato interno iniziale per due biciclette è lo stesso stessi pedali stesse ruote eccetera allora anche il comportamento in partenza quantomeno delle due biciclette è identico cioè a parità di stato interno iniziale le due biciclette rispondono in modo identico agli stimoli esterni cioè a parità di valore dello stato interno l'effetto della chiamata di una qualsiasi delle procedure o funzioni sarà identico sulle due biciclette con una discreta approssimazione potremmo pensare alla classe come ad un nuovo tipo che il programmatore può introdurre nel programma alla stregua dei tipi standard integer real o string ma così come non avrebbe senso lavorare direttamente sul tipo cioè non avrebbe senso ad esempio comandare integer assegna3 ma dobbiamo prima definire una variabile di tipo integer cioè un esemplare un'istanza del tipo integer allo stesso modo non possiamo lavorare direttamente con una classe ma dobbiamo prima dichiarare definire oggetti di quella classe non ha senso cioè lavorare con una bicicletta generica ma lavoreremo con un oggetto un'istanza un esemplare della classe bicicletta cioè con quella bicicletta di quel colore di quelle dimensioni con quelle caratteristiche non a caso quindi una classe deve essere definita nella sezione type dei tipi ma nella sezione var dovremo dichiarare variabili di quel tipo cioè scriveremo x di tipo due punti quindi bicicletta esattamente come siete stati abituati a fare finora con le variabili dei tipi standard in questo schema ho immaginato di utilizzare di istanziare di creare tre oggetti tre istanze a partire dalla stessa dichiarazione di classe ciascun oggetto sarà dello stesso tipo ma ciascuno avrà la sua copia di stato interno e ciascuna delle variabili dello stato interno di ciascun oggetto potrà ricevere un valore diverso da tutti gli altri potremo allora avere ad esempio una bicicletta rossa una gialla e una blu a livello tecnico invece i metodi cioè il codice delle procedure e delle funzioni non viene in realtà duplicato per ciascuno degli oggetti il codice è sempre lo stesso ma di volta in volta verrà fatto lavorare con lo stato interno della variabile a cui lo stiamo riferendo osserviamo questo esempio un po' più concreto la classe che abbiamo dichiarato è quella che descrive un cane ho deciso di chiamarla t cane questa t sta per tipo tipo cane ho scelto che lo stato interno descrive di un cane generico la razza di appartenenza ed il suo nome ho previsto anche una funzione verso che è l'unico metodo cioè comando che poi posso anche richiamare di un certo cane ho immaginato di aver istanziato cioè creato tre oggetti tutti facenti riferimento della stessa classe dei cani ogni oggetto ha il suo nome cioè il nome dalla variabile che rappresenta l'esemplare di quella classe un trovatello è un bastardino di nome Bobby e così via il mio cane è un barboncino di nome Tea e un canione un San Bernardo di nome Briciola direi che è arrivato il momento di entrare nel dettaglio implementativo cioè andiamo a vedere nella pratica come e dove deve essere descritta una classe in un progetto Delphi il mio consiglio è quello di utilizzare una unit diversa per ogni classe che volete aggiungere al vostro progetto almeno all'inizio ed ecco la dichiarazione della classe dei cani la unit è stata chiamata non a caso cani abbiamo quindi una sezione interface dentro type e poi il nome della classe il mio consiglio è quello di iniziare con una T per ricordarsi che è un tipo poi come si fa sempre con i tipi uguale class sotto si elencano una dopo l'altra le variabili con il loro tipo che compongono lo stato interno naturalmente avrei anche potuto scrivere razza virgola nome string ma per maggiore chiarezza le ho elencate una sotto l'altra ripetendo il tipo terminato l'elenco delle variabili che costituiscono lo stato interno si elencano i metodi della classe cioè tutte le funzioni procedure e altri tipi di sottoprogrammi che spiegherò tra poco tutti insieme prendono il nome di metodi da notare che qui nell'interface all'interno della struttura classe andiamo a descrivere solo l'intestazione cioè solo l'interfaccia di questi metodi il nome function o procedure il nome della funzione o procedura eventualmente tra parentesi parametri che deve ricevere e se è una funzione i due punti e il tipo che restituisce il codice di ciascuno dei metodi solo dichiarati come intestazione qua nella parte della classe devono essere poi scritti in modo completo nell'implementation quindi se nella classe di cane abbiamo la function verso si riprende questa intestazione e identica la si ripresenta nella parte implementation attenzione però siccome potrei avere più classi contenenti funzioni con lo stesso nome dobbiamo distinguere tra di loro aggiungendo prima del nome della funzione o della procedura il nome della classe quindi questa funzione verso è il verso della classe t cane e non il verso di qualche altra classe non c'è possibilità di introdurre ambiguità due punti string qui mi sono limitato ad immaginare che il risultato del verso di un cane è una stringa che propone a livello letterale il verso del cane bau bau notate che non sorprendentemente spero l'accesso ai componenti di una classe che assomiglia a un record assomiglia proprio a quella di un record cioè il punto nome della classe come allora era il nome del record punto e il componente interno questa annotazione col punto è valida sia per accedere a una procedura o funzione chiama quindi pratica dichiara in questo caso il verso del cane sia per accedere a una variabile dello stato interno ora siamo passati al codice di un'altra unit quella in cui vogliamo provare a creare e ad usare un cane ho chiamato questa unit non a caso prova cani per poter dichiarare oggetti variabili di tipo tcani devo indicare nella sezione interface di questa seconda unit il nome della prima in questo modo uses cani voglio utilizzare le parti visibili della unit dei cani solo quindi la classe di cane nella parte implementation mi sono limitato a scrivere una procedura chiamata prova senza molta fantasia in cui nella sezione var dichiariamo una variabile chiamata il mio cane proprio di tipo tcani prestate ora molta attenzione le variabili che rappresentano oggetti di una certa classe sono tecnicamente dei puntatori a oggetti di quella classe e così come era molto importante usare la new per creare l'oggetto puntato da un puntatore allo stesso modo dobbiamo prima creare anche con le classi l'oggetto che verrà puntato dal nome della variabile la gestione quindi degli oggetti nella programmazione OOP è completamente dinamica ma siccome l'utilizzo standard che si fa della memoria è stato reso più semplice cioè non siamo costretti ad utilizzare il simbolo del cappelletto per indicare che una certa variabile è un puntatore a Ticane no diciamo semplicemente che il mio cane è di tipo Ticane e anche quando vorremmo poi andare a utilizzare l'oggetto non dovremo utilizzare il simbolo cappelletto per raggiungere l'oggetto ma useremo semplicemente il nome della variabile però una cosa è rimasta prima di poter usare un oggetto deve essere creato con la programmazione Pascal utilizzavamo il comando new qua utilizziamo un costruttore create il mio cane viene associato con il risultato della creazione di un oggetto di tipo Ticane l'indirizzo di questo oggetto in pratica viene copiato nella variabile mio cane notate un particolare quando si invoca il costruttore per creare un oggetto di una certa classe prima del create si mette il nome della classe voglio creare un oggetto di classe Ticane una volta che l'oggetto è stato creato possiamo accedere alle variabili del suo stato interno con la classica notazione dei record il mio cane punto nome assegna la stringa Thea il mio cane punto razza assegna barbone scrivi ammesso poi che esista una write line cosa che non è vera per Delphi ma immaginiamo che esista giusto per capire come sia possibile richiamare una funzione un metodo dell'oggetto il mio cane write line senti che parla due punti il mio cane punto verso anche le funzioni e le procedure sono invocate con la notazione punto nome dell'oggetto il mio cane punto metodo che si vuole richiamare e visto che il metodo verso restituisce la stringa bau bau sullo schermo potremmo leggere senti che parla due punti bau bau conviene fin da subito e sottolineare un paio di errori tipici qua sulla sinistra vedete la unit dei cani la classe è stata leggermente modificata nello stato interno ritroviamo sempre la razza e il nome che sono due string ma ho aggiunto anche la data di nascita ho scelto di rappresentarla ancora come string il metodo età restituisce un integer e calcola appunto l'età di questo di un certo cane nell'implementation ho naturalmente descritto il codice della function tcani.età non ci interessano i dettagli nella unit che ho chiamato invece prova cani nella sezione interface dichiaro di voler utilizzare la unit precedente nella sezione var dichiaro due oggetti di tipo tcani creo il primo cane cane1 assegna tcani.create e memorizzo nel campo data nascita del primo cane una certa data poi creo anche il secondo cane cane2 assegna di nuovo tcani.create è un oggetto separato dal primo ha la sua razza il suo nome e la sua data di nascita ad esempio memorizzo la data di nascita ed ecco gli errori di nuovo immaginiamo che con Delphi sia possibile usare varietaline in realtà non possiamo perché siamo in modalità grafica varietaline età due punti ecco tcani.età l'unica situazione in cui possiamo chiamare un metodo usando il nome della classe è il costruttore cioè il create in tutti gli altri casi questo non ha senso infatti età restituisce l'età di un certo cane ma quale cane? tcani è il nome della classe non indica né cane1 né cane2 per intenderci non sapremmo di quale cane stiamo chiedendo l'età quindi la prima riga sottolineata in rosso è palesemente un errore ma anche la seconda perché scrivere semplicemente write line età di nuovo di quale cane prima del nome di una variabile che appartiene allo stato interno di una certa classe dobbiamo mettere il nome dell'oggetto di quella classe che stiamo utilizzando sono quindi valide le scritture cane1 punto età cane2 punto età cane2 punto nome o razza il costruttore è un metodo veramente speciale per una classe anche se non lo descrivo cioè se non lo definisco nella parte implementation un metodo create costruttore standard esiste sempre è quello per intenderci che si preoccupa di fare spazio di allocare spazio per le variabili dello stato interno e questo è il livello minimale di un costruttore anche se non lo descrivo svolge queste operazioni e lo posso richiamare ma un costruttore può essere ridefinito riscritto il punto di forza di un costruttore è che non posso creare un oggetto senza richiamarlo per cui tutto ciò o meglio tutte le istruzioni che vengono poste in un costruttore sono sicuramente sempre chiamate all'atto della creazione di un oggetto queste istruzioni vengono eseguite prima dell'utilizzo che poi se ne potrà fare di quell'oggetto per cui un posto perfetto per inizializzare le variabili dello stato interno così da non poter creare un oggetto che parta vuoto di qualche caratteristica intendo caratteristiche così importanti che non ci può permettere che in partenza non abbiano valore più in generale possiamo anche far svolgere operazioni indispensabili al corretto funzionamento dell'oggetto stesso immaginiamo che non si debba permettere la creazione di un cane all'interno del programma senza aver stabilito prima la sua razza il nome e la data di nascita cioè senza questi tre valori noti non è possibile creare quel cane ecco come riscrivere il costruttore create per la classe dei cani in modo tale che pretenda al lato della creazione di un nuovo cane la specifica di un nome di una razza e di una data di nascita nella sezione class dopo lo stato interno la descrizione del nuovo costruttore inizia con la parola appunto constructor costruttore poi il nome standard create per un costruttore e quindi l'elenco dei parametri che si pretende siano passati al momento della creazione cioè del richiamo del costruttore create di un cane nella sezione implementation il costruttore viene trattato allo stesso modo di una qualsiasi procedura o funzione di quella classe si ripropone l'intestazione constructor però per non creare confusione con altri metodi di altre classi chiamati create dobbiamo mettere davanti il nome della classe tcane punto quindi stiamo descrivendo il costruttore create non di una classe qualsiasi ma proprio della classe tcane l'elenco dei parametri che deve essere identico ok ma cosa se ne fa il costruttore con i tre valori che riceve semplicemente ricopia questi valori nelle corrispondenti variabili dello stato interno cioè prende il parametro che nome e lo ricopia nella variabile nome dello stato interno prende la razza che riceve e la ricopia nella variabile chiamata razza dello stato interno e la stessa cosa fa con il parametro che data che viene copiato nella variabile data nascita dello stato interno in questo modo fino al momento della distruzione dell'oggetto o comunque fino al momento in cui non andremo a modificare uno di questi dati sapremo sempre come si chiama quel cane qual è la sua razza e in che data è nato vorrei anche far notare un altro particolare quando uno uno qualsiasi dei metodi costruttore funziona procedura di una classe ha bisogno di riferirsi a una variabile dello stato interno magari per copiarci dentro un valore oppure per usare quella variabile per un calcolo non ha bisogno di indicare prima del nome della variabile il nome della classe è evidente qua nell'intestazione è già scritto qual è la classe in cui stiamo lavorando quindi non avrebbe senso sarebbe ridondante scrivere tcane.nome è ovvio siamo nella classe tcane scriviamo semplicemente il nome delle variabili dello stato interno che vogliamo usare e il compilatore saprà sempre a cosa riferirle è terminata questa prima parte della video lezione dedicata alla OOP nella seconda parte inizieremo a prendere in considerazione un ambiente reale di sviluppo DELFI e proveremo a scrivere le nostre prime vere classi concrete sperimentandone anche il funzionamento da un punto di vista reale a